Una visione moderna di città non può prescindere dalla presenza del verde, spazi necessari da gestire con regole precise. A tal fine l'amministrazione comunale di Catanzaro ha presentato una bozza di regolamento sul verde pubblico comunale realizzata in collaborazione con l'ordine provinciale degli agronomi e forestali. Si è partiti da un censimento per passare poi alla gestione. Per la prima volta mettiamo mano a quello che era una regolamentazione che riguarda la cura del verde pubblico e quindi tutti i benefici che ne derivano da una gestione più accurata. Questo naturalmente va visto in aggiunta al censimento che noi abbiamo fatto. Quindi noi abbiamo fatto dei passaggi per cercare di organizzare al meglio l'attività che partono dal censimento informatico che definisce in modo informatico tutte le aree che compongono i 100 km2 del nostro territorio e adesso con questo regolamento non facciamo altro che andare a regolamentare come devono essere fatte le potature, come devono essere fatte le manutenzioni e una serie di regole che fino ad oggi non ci sono state. Naturalmente questa è una bozza che ci viene omaggiato dall'ordine degli agronomi. Su questa adesso inizierà l'iter perché naturalmente su questa bozza poi si dovrà esprimere la commissione e sicuramente si deve integrare con le altre normative che sono presenti nella materia. Il verde urbano ha una valenza straordinaria purtroppo non sempre considerata nella giusta misura. E quindi da questa offerta è nata poi l'idea di iniziare, lo chiamiamo regolamento perché effettivamente è un regolamento ma comincia ad essere una sfida questo documento che abbiamo preparato per sensibilizzare ulteriormente e maggiormente chi di dovere ha l'attenzione sul verde pubblico.